Filippo, tutti e cattivi, staranno impazzendo. Hai finito? No. Perfetto. Dai, che ti sei pulito. No, non mi sono pulito. Dai, basta. Basta, tesoro, basta. Dai, dai, basta. Vieni qua. Dobbiamo andare, dai. Senzai, montagna. Basta con i compiti. Chiudi, dai. È festa oggi, no? Godiamoci un po', dai. Godiamoci la giornata. Avete finito, dai. Relaccio. Noi i compiti li finiamo dopo. Chi rimane più? Eh, ci rimango più io. No, io. Tu stai per cadere? No. Vengo io, eh. No. Aspetta. Perché devi mettere bene... Hai capito? Sempre questi? No. Buoni. Ma non mi piacciono. Amore, buongiorno. Buongiorno. Papà! Eh, papà! Perché sei ancora sveglia? Beh, i denti dei salovani? Sì, sì. Buongiorno. A dormire. Com'è? È un ucc drillato. Non stavo. 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 Non stavo sullo. Ma non stavo. Controre la giornata. Non stavo. Mamma, c'è il signore Sonso. Oh, salutatelo. Buongiorno. Fai ancora così? Secondo te che ha fatto, mamma, sul viso? Non lo so. Dai, andiamo. Ecco, gli ho dato un'asciugata. Sono ancora un po' umidi, ma vanno bene. Grazie. Queste chi te le ha date? Anna, per favore, dove le hai prese? Sono di mamma. E come mai le hai tu? Non volevo che le prendeva lei. La fanno essere triste. Capito. Ma non le hai ingoiate, vero? Brava. Vieni, ti aiuto. Riportate via? Un'altra volta. Potrebbe accadere. Ma... Lo decideranno altre persone. Devono capire se mamma è in grado di patare a voi. Allora, facciamo una cosa. Chiamiamo mamma e le diciamo che stanno arrivando gli assistenti sociali. Così si fa trovare bella. Chiamiamo. Ah. La sera una città? La perike in grado di robina è sì not Mathilde. Grazie a tutti.